ero lì io, potevo retrocedere e passami la palla però prendiamoci questo calcio d'angolo che è meglio di niente passami la palla dai passami la palla che andiamo a farne un altro niente da fare fine partita 1-8 5 gol fatti anche in questa partita 5-6 sono 11 gol in tre partite eccoci qua cominciamo noi con la palla per Pini contro il Cosenza ragazzi vediamo se lo saltiamo invece no questa volta è andata abbastanza male ragazzi può capitare può capitare vediamo adesso il Cosenza si attacca e ci fa i gol perché io mi cazzo la palla arriva in attacco bellissimo passaggio tra di noi bellissimo passaggio sono in fuori gioco attenzione ci fa rubare anche palla dobbiamo vingerla per forza questa partita dobbiamo vingerla senza scusere bellissimo questo eccole vai tu sulla fascia avanziamo in attacco guardami che sono solo guardami che sono solo guardami e nooo me lo son mangiato oppure io questo si mette bene sulla traiettoria qui atteggiate perchè solo questo succede porco demone succede questo qua quando una squadra fa cagare ragazzi ve lo dico proprio così quando una squadra fa cagare mi sentite qua guardami che sono ma che cazzo di passaggio è quello adesso devo cominciare ad incazzarmi perchè sennò loro non sono contenti se non mi fanno incazzare eh no eh no non è live se non ti incazzi eh no provo a liberarmi ci riesco posso provarci gol ce l'ho fatta queste sono le giocate che dobbiamo fare se voglio montare avanti perchè sennò non facciamo niente bellissima questa dai che sono qua da solo ma a me devo ripassarla noi indietro guarda quello mio dio dobbiamo fare per forza minchiate bravissimo però non sono libero vai così vai così ma perchè perchè cos'è sto sto scendendo qua ci posso provare madonna ci provo ancora ma vaffanculo va non mi puoi bloccare così in tiro vabbè vai corri corri che ce la puoi fare corri che ce la puoi fare vai così non so se mi devo incazzare o devo proprio smalonnare di brutto non lo so come cazzo si fa sbagliare sotto porta così come si fa cioè tu non puoi fare un passaggio al portiere è illegale ti dovrebbero arrestare ti dovrebbero togliere dal campo ora stesso siamo in due siamo in due siamo in due non devi ritornare indietro quando siamo in due guardami qua da solo guardami qua da solo vabbè è inutile non mi vedono proprio guardami ci posso provare nooo mi ha deviato tutto porco devonio nooo io non mi esprimo non mi esprimo guardate che cos'è che cos'è adesso dobbiamo prendere gol sennò non sono contenti meno male che ha tenuto la palla va siamo in tre davanti stanno fermi è incredibile guardalo 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 qua perfetta no dai sempre queste cazzo di deviazioni della minchia nooo dai porco demonio mi fai passaggio a coppola di minchia io come faccio è normale che poi non la tengo la palla se ne va sull'altra fascia siamo tutti qua siamo tutti qua non si può dai un cross ti fa schifo il cross guardalo che è solo guardalo guardalo che è solo guardalo non si può o una cosa del genere forse non capiscono quella è per terra si è rotto questo vaffanculo meno male che l'ha sprigolata mancano tre minuti alla fine della partita e devo guardare queste cose qua devo guardare nooo porco demonio purtroppo è pareggiata questa partita ormai porco demonio ci abbiamo trovato in tutti i modi ci abbiamo trovato visto come è andata la partita direi che il pareggio ci può stare sì è meglio che non parlasse la telecronica perché già ho fatto incazzare il pareggio ci può stare hanno fatto un cazzo questi qua abbiamo la coppa italia contro il genuo e poi anche in campionato contro la stessa squadra ma è una cosa incredibile questa va bene andiamo a giocare contro questo giovanova in coppa italia la coppa italia ragazzi c'è grande attesa per la sua prova un cross inguardabile era normale attenzione la parata attenzione sono qui ci provo un gol bellissimo proprio di grattoterra leggero leggero 1 a 0 per noi ragazzi oh ci provano alla distanza questi vai avanti che ce la possiamo fare perfetto questo passaggio perfetto questo passaggio ci posso provare nooo per pochissimo un passaggio non mi farebbe male un passaggio non mi farebbe male se si possa provare a giro e gol 2 a 0 la tengo incredibilmente attenzione perché l'azione non è finita anzi è tutta di nuovo cominciata un pallonetto bellissimo un pallonetto bellissimo ragazzi ho fatto una cosa incredibile non si vede in tutti i giorni una cosa del bello vediamo se la mette in mezzo per me vediamo se la mette in mezzo per me si l'ha fatto 4 a 0 ragazzi ce ne siamo andati 4 a 0 a 31 azioni proprio spettacolari così dobbiamo giocare ragazzi così così eccoci qua vediamo se facciamo un'altra azione crossamela ci posso provare al volo 5 a 0 ragazzi è ora ormai non c'è più niente da fare tantissimo guardami fammi il cross ci posso provare di nuovo al volo però questa volta lo sbirgolate ragazzi questa volta e ogni tanto capita anche a me di fare minciate però sul 5 a 0 ci sta attenzione perché attacca il Genova per la prima volta in vita sua con un tiro ha effetto quasi pericoloso virgola anche questo tiro finisce il primo tempo ragazzi 5 a 0 questi sono i risultati lì come potete vedere incredibile proviamo ad attaccare noi eccola qua ci provo per questo passaggio bellissimo può tirare e rete è incredibile ragazzi 6 a 0 gli ho fatto un assist perfetto ripartiamo in contropiede anche ma il mio calzatore è finito da sotto però ho recuperato posizione lo driblo anche lo driblo attenzione perché posso provare a fare una cosa incredibile e invece no è stata la deviazione palla di nuovo tra i miei piedi trovo il passaggio ma cosa fai? ma non è possibile dai paratona incredibile la prima volta nella vita ma anche adesso ce la possiamo fare ma anche adesso ce la possiamo fare ci posso provare oh io pensavo che entrava da quella posizione lì e vabbè si è girata dall'altro lato ma cos'è? cos'è no dai come rovinare le partite proprio come rovinarle partite perfette poi vieni a fare queste cose vabbè le spinge il cross ma la falla ancora lì ok la recupera finalmente ce la fa possiamo ripartire in contropiede guardami che sono solo lì sono solo fammi un cazzo di cross passaggio bellissimo mi possa accentrare mi possa accentrare proprio